Dal 1 gennaio 2019 è obbligatorio inviare fatture in formato elettronico tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Che cosa si intende per fattura elettronica? La fattura elettronica non è solo un documento digitale. Non basta inviare un documento di testo o un pdf per parlare di fattura elettronica. Deve infatti rispettare uno specifico tracciato standard XML disciplinato dalle specifiche tecniche definite dall'Agenzia delle Entrate, che è l'unico ritenuto valido per la circolazione di fatture elettroniche. Per la creazione dell'XML è possibile utilizzare software che permettono di creare il tracciato in automatico, lasciando all'utente il compito di compilare una fattura come è sempre fatto. La fatturazione elettronica di Aruba ti consente sia di creare l'XML tramite una semplice interfaccia grafica, sia di caricare fatture in formato XML generate da altri sistemi. Adesso che sai cos'è una fattura elettronica e quali sono le sue caratteristiche, vai al prossimo video per saperne di più.